Porta la birra era il messaggio in codice per ordinare la droga presi pusher della baribene nei quartieri madonelle carassi rifornivano anche imprenditori e studenti sabotaggio scienze politiche dopo l'ennesimo allagamento causato dalle tubature vecchie dalle inciviltà degli studenti il professor triggiani direttore del dipartimento è pronto a sporgere denuncia contro i gnoti il rilancio di piazza umberto il nostro live con il comitato cittadino per parlare del restyling del giardino storico di bari bari capitale della giustizia venerdì si apre la tre giorni del congresso nazionale dell'associazione magistrati con il presidente della repubblica sergio mattarella il nostro focus con la presidente della giunta barese titipo tito buonasera diretta dalla redazione di telebari come sempre saremo in vostra compagnia per un'ora per raccontarvi quello che è caduto oggi nella nostra città e commentarlo con i nostri ospiti partiamo dalla cronaca lo avete già sentito dai nostri titoli spaccio di droga nei quartieri carabinieri arrestano sei persone tra i clienti anche imprenditori e studenti della cosiddetta bari bene i dettagli da cristina ferrini professionisti studenti ma anche operai una clientela che non conosceva età né classe sociale quella che acquistava droga nei quartieri madonnelle carassi la dove l'offerta dello stupefacente era flessibile un mercato che variava anche a seconda delle tasche dei clienti e che fruttava l'organizzazione un giro d'affari di circa 5.000 euro al giorno 40 euro per una dose di cocaina 10 per una di marijuana sono sei le persone arrestate dai carabinieri della compagnia baricentro al termine delle indagini quattro sono in carcere due domiciliari si tratta di marco tempesta 26 anni sorvegliato speciale nicola palermo di 21 anni davide de giosa di 26 emanuele bevilacqua di 19 anni giuseppe ottomano di 56 domenico di 51 anni alcuni sono spacciatori di professione altri insospettabili tra loro e gli acquirenti il rapporto si era consolidato nel tempo parlavano in codice le ordinazioni avvenivano anche per telefono bastava dire portami le birre e apparecchia per gli amici per attivare la consegna dello stupefacente i carabinieri hanno sequestrato oltre due chili di droga tra cocaina ascisce e marijuana dramma al Policlinico di Bari la procura ha aperto un'indagine sulla morte di una bambina avvenuta subito dopo il parto ieri pomeriggio nel reparto di ostetricia del Policlinico di Bari la bimba stando alla denuncia dei genitori avrebbe avuto complicanze alcuni minuti dopo la nascita i medici in sala parto non avrebbero potuto far nulla per salvarla ancora ad accertare cosa abbia causato il decesso la piccola salma è a disposizione dell'autorità giudiziaria che valuterà nelle prossime ore se disporre l'autopsia nessuno dei tracciati eseguiti sulla madre 28 anni avrebbe rilevato anomalie o condizioni di sofferenza fetale fino alle difficoltà respiratorie sopraggiunte nei minuti successivi alla nascita dopo la denuncia i carabinieri della compagnia san paolo hanno acquisito la documentazione sanitaria utile a ricostruire le fasi del travaglio fino al parto naturale scoperti dalla polizia ferroviaria in un deposito di autodemolizioni a Bari due tonnellate di cavi di rame l'area è stata sottoposta a sequestro mentre il titolare dell'attività che non era in possesso dell'autorizzazione per la raccolta e lo smaltimento del rame è stato denunciato all'autorità bene andiamo al nostro live oggi in diretta da piazza umberto per parlare di restyling allora io mi collego subito con il nostro roberto maggio roberto buonasera buonasera alessandra sì noi ci troviamo a piazza umberto forse il primo live almeno da un punto visto è climatico quasi invernale perché qui fa già un certo freddo e siamo un po' cercando di descrivere questa piazza umberto serale siamo con lorenzo scarcelli che è il portavoce del comitato piazza umberto dunque ci sono delle piccole novità qualcosa si sta sbloccando perché probabilmente con la legge di stabilità che è stata oggi presentata in parlamento si dovrebbero sbloccare dei fondi per la città dal patto di stabilità quindi parliamo di 12 milioni per la città di Bari e parte di questi fondi potrebbero essere riottati l'ha detto il sindaco Antonio De Caro proprio ai nostri microfoni sulle piazze in particolare piazza umberto e piazza cesare battisti dunque che piazza in un flash che piazza umberto potrà essere nel futuro anche grazie a questi interventi più sicura più bella più socializzata con maggiore integrazione con un rapporto di maggiore vivibilità con tutto il centro cittadino e quindi non essere esclusa dal centro come è stato fatto fino a qualche tempo fa insomma quindi con questi con queste risorse si potrebbe pensare a una progettazione seria e quindi comunque già sta avvenendo il meglio da qualche anno a questa parte qualche riscontro positivo si sta avendo grazie al coordinamento comitato e istituzioni il comitato che segna le istituzioni poi che agiscono infatti ricordiamo che saranno comunque previste per il periodo natalizio tutta una serie di attività e oltretutto già un primo lotto di lavori è già previsto dal progetto di restyling di via sparano che quindi prenderà anche la parte centrale di piazza umberto io nel frattempo ti restituisco la linea ci ritroviamo tra pochi minuti ringraziamo roberto maggi che come sempre ci accompagnerà nel corso del nostro telegiornale noi intanto andiamo avanti parliamo di emergenza abitativa si è riunita questa mattina la commissione incaricata di valutare le domande di accesso al contributo per l'amorosità incolpevole cui fondi a disposizione dell'amministrazione comunale ammontano complessivamente a 494 mila euro sono 28 le domande presentate 15 delle quali beneficeranno di un contributo massimo pari a 8 mila euro le restanti 13 invece sono state escluse per assenza dei requisiti previsti dall'avviso stiamo lavorando con la regione puglia lancia il governo nazionale commenta il vice sindaco assessore al patrimonio vincenzo brandi per modificare i criteri oggi troppo stringenti che consentono a quanti ne hanno bisogno di accedere al contributo per l'amorosità incolpevole allagamenti nella facoltà di scienze politiche ieri il terzo episodio le cause sarebbero da attribuire non solo alle tubature vecchie ma anche all'incivittà degli studenti e il direttore di dipartimento il professor trigiani è pronto a sporgere denuncia contro i gnoti ce ne parla barbara civillo tre allagamenti nel giro di una sola settimana la facoltà di scienze politiche ha vissuto giorni di grave disagio ma tutto oggi sembra tornato alla normalità l'episodio più rilevante risale a venerdì scorso il corridoio a piano terra del palazzo di giurisprudenza è stato totalmente invaso da acqua e non solo tanto che oltre all'intervento di spurgo il secondo a distanza di qualche giorno è stata necessaria una disinfezione le tubature erano otturate è stato trovato davvero di tutto anche vestiti e stracci e persino indumenti intimi per fortuna la ditta che si occupa degli interventi ha lavorato durante la giornata di sabato altrimenti sarebbero stati costretti a chiudere la facoltà e a rimandare l'intero piano didattico ieri il terzo episodio seppur minore la causa i sanitari non erano stati posizionati correttamente sul pavimento la denuncia è arrivata dall'associazione studentesca link che oggi ha deciso di incontrare il direttore di dipartimento il professore Nutrigiani quello che vogliamo denunciare non è sicuramente una mancanza di sostegno da parte del dipartimento e quindi di collaborazione ma sicuramente il fruco delle nostre dichiarazioni è quello della sicurezza e della tutela degli studenti oggi pare che tutto sia tornato alla normalità ma una questione resta ancora aperta le tubature saranno anche vecchie ma i cattivi costumi degli studenti sembrano davvero non avere tempo e a questo punto ho già parlato con l'avvocatura dell'università procederò per denuncia contro i gnoti per il danneggiamento della cosa pubblica che è un fatto di principio naturalmente è difficile individuare i responsabili perché ovviamente non si possono mettere telecamere nei servizi igienici però che almeno si evidenzi il rifiuto di questi atti di vanderismo di boicottaggio, di inciviltà Continua la crescita della cassa integrazione in Puglia a settembre 2015 le tre forme di intervento di integrazione salariale hanno raggiunto quasi 2,4 milioni di euro autorizzate dall'Inps equivalenti a 14.118 lavoratori coinvolti nel solo mese di settembre lo rende noto la Will Puglia complessivamente la cassa integrazione risulta cresciuta del 25,7% rispetto ad agosto del 2015 mentre sui 12 mesi precedenti ha segnato una riduzione di 57,8 punti percentuali stiamo vivendo, afferma Aldo Pugliese, segretario generale della Will Puglia un periodo di stagnazione economica dovuto anche e soprattutto al blocco o alla non apertura di cantieri di piccole, medie e grandi dimensioni ne è certo un caso che la Puglia sia seconda solo alla Calabria nella classifica delle opere incompiute ben 81 nella nostra regione a ciò si aggiunga il completo disinteresse nei confronti del Mezzogiorno da parte del Governo nazionale consiglieri di Forza Italia all'attacco sull'esito del programma operativo nazionale Garanzia Giovani una misura adottata anche dalla regione Puglia per favorire l'occupazione giovanile sentiamo incapacità di spesa delle risorse scarsa comunicazione con i giovani e con le aziende sono i punti su cui si incardina la polemica del gruppo di Forza Italia la regione sull'esito del progetto europeo Garanzia Giovani finalizzato all'occupazione degli under 30 pochi giorni fa dall'assessorato al lavoro della regione la notizia che 1800 ragazzi pugliesi al di sotto dei 30 anni erano stati assunti a tempo indeterminato 4500 quelli avviati al mondo del lavoro un risultato che avrebbe fatto ben sperare replicano le azzurri alla regione se non fosse che i dati non erano ancora stati comparati con quelli delle altre regioni d'Italia e che oggi invece rimandano la Puglia al penultimo posto dei 120 milioni di euro che la nostra regione aveva a disposizione per il progetto ne sono stati spesi solo 72 fa discutere, riferisce Forza Italia anche il dato sulle risorse impiegate per le riduzioni fiscali alle imprese che assumono dei 28 milioni di euro previsti per la spesa due sono stati quelli erogati abbiamo estrapolato dei dati dall'istituto per lo sviluppo della formazione professionale dei lavoratori un ente di ricerca nazionale sottoposto alla vigilanza del ministero del lavoro e delle politiche sociali e da questi dati emerge un grande blef un dato estremamente significativo viene dato dallo scetticismo che è stato manifestato dagli imprenditori cioè da coloro i quali avrebbero dovuto poi in realtà prendersi in carico questi ragazzi si è parlato della realtà migratoria e della prospettiva per il futuro dei rifugiati sul territorio pugliese nella tavola rotonda organizzata dall'Accademia Pugliese delle Scienze nell'auditorium di Villa La Rocca a Bari all'incontro ha partecipato anche il priore della Basilica di San Nicola Ciro Capotosto bene era la nostra ultima notizia di questo primo spazio ci fermiamo pausa pubblicitaria a rientro insieme al direttore di impresa metropolitana Michele Marolla commenteremo i principali fatti di questa giornata a tra poco Recoci ancora qui in diretta io saluto subito il direttore di impresa metropolitana Michele Marolla Michele buonasera ciao Ale buonasera a chi ci segue con il quale ovviamente commenteremo criticheremo insomma leggeremo con la lettura un po' critica quello che è accaduto oggi saremo buoni per dire alla Bari sembreremo qualche mazzata la miniatura allora andiamo subito al nostro live con Roberto Maggi oggi parliamo di restalling di Piazza Umberto almeno si spera Roberto torno da te sì Alessandra allora stavamo dicendo poc'anzi proprio parlando appunto dei lavori che potrebbero partire canzi che dovrebbero partire almeno per quanto riguarda il primo lotto la prima parte legata a Via Sparano già dovrebbero essere canterizzati nel 2016 perché storicamente questa piazza aveva già una composizione totalmente diversa vero Lorenzo? sì storicamente parliamo degli anni 30 anche prima e anche dopo insomma queste erano due piazze Piazza dell'Ateneo e Piazza Umberto poi nel 1930 è diventata cioè fu stabilito che doveva diventare un'unica piazza Piazza Umberto quindi la parte centrale che è Via Sparano che attraversa le due piazze si unì a livello di marcia a piede quindi adesso con le modifiche che faranno faranno emergere le vecchie basole così come è stato fatto poi in Via Argiro e dopodichè poi ci dovrebbe essere una seconda parte se effettivamente saranno confermate le voci legate a questi fondi sbloccati dall'allentamento del patto di stabilità voi avete presentato in tal senso un progetto allora prima di tutto abbiamo presentato un'idea progetto non un progetto un'idea progetto questo è importante io faccio un passo indietro e dico che tempo fa diciamo già la Giunta Emiliano che bisognava mettere delle risorse sul piano triennale e furono messe un milione e mezzo di spalmate nei tre anni lo stesso questa Giunta De Caro ha approvato questo milione e mezzo da distribuire nei tre anni però è importante progettare qualcosa quindi un'idea l'abbiamo presentata sia al Rettore di Bari e sia a questa amministrazione sarà un bel progetto perché questo deve ritornare a essere oppure diventerà realmente il fiorello chiello del centro cittadino di Bari la piazza delle piazze la piazza maggiore di tutta la città di Bari dove devono confluire gli studenti, i turisti e tutti i cittadini baresi D'accordo Alessandra ti restituisco la linea noi ci ritroviamo tra pochissimi minuti Grazie Roberto e i suoi ospiti beh Michele dobbiamo dire che questo è forse il cuore pulsante non il cuore verde del centro cittadino restituirlo quindi a quella che è stata un'antica dignità che riguardava il piazza Umberto mi sembra importante nell'ottica anche di un restyling interesserà anche via Sparano potrebbe diventare davvero il salotto e biglietto da visita della città Beh sì io spero che sia che sia davvero così perché la riqualificazione urbana di piazza Umberto è ormai indispensabile sia perché è versa troppo tempo in uno stato di abbandono preda di bande di vario tipo sia perché in effetti quello è un po' il biglietto da visita della città riportare non so quanto possa essere utile riportare il passaggio centrale dividere la piazza in due eccetera non ho idea del progetto dell'idea di cui stiamo parlando però è sicuramente interessante questa cosa anche se l'allentamento del patto di stabilità serve per fare per curare le strade per fare insomma ecco un'operazione di abbellimento soltanto dire non ha molto senso molto più senso ce l'ha un'operazione di recupero di riqualificazione dell'esistente cominciando a fare quello che c'era da fare sempre si parlava della ristrutturazione dei bagni la goccia del latte e via dicendo quindi quindi mi sembra un'operazione interessante però tutto questo deve necessariamente essere inserito in un progetto città altrimenti rischiamo di fare tanti pezzettini diversi poco collegati tra di loro poco efficaci anche sotto il profilo dell'immagine quelli che chiamiamo interventi spot che poi annullano un po' come le piste ciclabili come si dice a varie a spizziche bocconi ecco così chiarissimo infatti allora c'è un'altra questione di cui si sta occupando il sindaco De Caro l'ho fatto a poche ore dall'allagamento del circoneone è quello di sciogliere questo nodo che riguarda il Petruzzelli il nodo è quello della proprietà si sta tentando la strada dell'esproprio ci vorranno degli anni De Caro oggi ha promesso che entro la fine del suo mandato si possa risolvere questo problema di un teatro ricostruito con fondi pubblici tanto la richiesta fu avanzata proprio dal presidente Emiliano in occasione della visita del ministro io non riesco a immaginare che cosa si scatenerà su questa cosa perché già c'è una diatriba legale ancora sulla vecchia su quello che è già stato fatto andare ad innescare un processo di questo genere sicuramente creerà problemi ulteriori però forse è giunto il momento di fare chiarezza questo sì perché non si può continuare nell'imbarazzo o nell'incertezza riguardante il Petruzzelli è un bene di fatto pubblico perché è stato ricostruito con fondi pubblici poi il tempo diventerà una fabbrica del Duomo più che una fabbrica del Petruzzelli nel senso che ci sarà sempre qualcosa da fare e qualcosa che non andrà non andrà bene purtroppo sono i tempi della nostra burocrazia della nostra città non solo della nostra città insomma ci sono caratteristiche italiane queste nell'incertezza è meglio tirare avanti e come dire il provvisorio diventa definitivo confidiamo per almeno in una stagione come adesso stanno facendo una stagione che dia comunque beh gli annunci ho visto le anteprime delle opere che dovrebbero essere fatte mi sembra una buona stagione un bel cartellone sì 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 assolutamente allora in direzione opposta invece per quel che riguarda la Fiera di Levante non è un caso perché tu te ne sei occupato proprio nel tuo giornale Impresa Metropolitana sulla Fiera di Levante invece non mancano le polemiche però in questo caso parliamo di privatizzazione allora intanto non è una privatizzazione chiariamo è un affidamento di gestione la proprietà resta dell'ente Fiera di Levante che comunque sopravviverà resterà ed è un ente pubblico cioè anche se è economico però anomalo come ente poi io vorrei capire la dico proprio in maniera troviamo a chi rifilare il bidone no no nel senso nel senso che troviamo qualcuno che è disponibile a mettere in mano la Fiera di Levante intanto ci sono una serie di iniziative i lavoratori vengono ricollocati buona parte e questo è un fatto positivo a capo della Coretta c'è la Camera di Commercio quindi nessun esproprio proletario diciamo nessun sud che fugge nessun la testa rimane qua ma la Camera di Commercio non può svolgere quel ruolo incominciano i distinguo cominciano a dire no e perché è stata fatta la gara in un certo modo invece mi sembrano pretesti tardivi peraltro perché questa storia è stata avviata dal precedente consiglio regionale quindi c'è già una delibera del consiglio regionale all'epoca che all'unanimità decise che gli enti pubblici economici non potevano più esistere quindi la Fiera andava in qualche modo gestita in maniera diversa adesso che cosa vogliamo cioè perché questo per far saltare l'accordo con Camera di Commercio Bologna Fiere Ferrara Fiere vabbè ma a questo punto che cosa otteniamo salta la Fiera perché la Fiera è strapiena di debiti e non può continuare ad andare avanti così non è pensabile che si possa continuare in questa maniera quindi trovare qualcuno che la gestisca in maniera professionale con delle conoscenze specifiche e che aiuti a risorgere questa Fiera con numeri ridotti di personale inevitabili che però viene ricollocato far saltare l'accordo significa dare una mega fregatura ai lavoratori prima cosa significa anche forse trovare il modo per scaricare la responsabilità su chi ha gestito politicamente questa cosa quindi è un gioco solo politico ed elettorale a me cittadino a me giornalista economico che osserva le cose della Fiera che ha seguito tutto l'iter non interessa il colore politico di chi sta gestendo questa fase a me interessa il risultato e se il risultato è salvare la Fiera salvare i posti di lavoro e rilanciare una Fiera che è al servizio del territorio al servizio di tutti bene o male poi Camera di Commercio nella Camera di Commercio ci sono tutti ci sono gli imprenditori gli artigiani i commercianti ci sono le rappresentanze di tutte le categorie produttive allora dov'è il problema? c'è il gusto della polemica? e quello va secondato no? no vabbè per carità tutti abbiamo un diritto di parola siamo in democrazia ancora per fortuna oserei dire però fatemi dire che sono quanto meno perplesso su questa mi sembrano speciose queste polemiche per usare un termine che ormai desueto allora cambiamo argomento e ci ricorreghiamo infatti di cronaca di cui avete sentito parlare oggi i carabinieri hanno arrestato i cosiddetti pusher della baribene e che rilevano dei dettagli possiamo definire assolutamente inquietanti nel senso che c'erano studenti imprenditori che si rifornivano da questi pusher con delle conversazioni anche abbastanza amichevoli e confidenziali non è una novità voglio dire però è la conferma di quanto la droga costituisca ancora una fiorente attività per le organizzazioni si a me è capitato di usare una battuta un po' forte diciamo però l'unità diciamo d'Italia e anche l'unità del pareggiamento delle classi sociali è stato ottenuto con la droga di fatto sì perché è una cosa talmente trasversale che attraversa la società ceti sociali diversi non importa se acculturati non acculturati ricchi poveri eccetera e ha unificato veramente questa società è un collante criminale di una società che evidentemente ha dei problemi perché altrimenti non sarebbe non sarebbe così poi chiamarla bari bene a me viene da ridere quando sento scusi non è una critica che ho usato no no però sono delle come dire semplificazioni giornalistiche per far capire no? bari bene insomma mi lascia perplesso perché perché uno per quanto possa essere un imprenditore uno studente un professore tutto quel che vuoi e poi si mette in confidenza con il delinquente come risulta dalle intercettazioni ma di che stiamo parlando? di quale bene parliamo di quale bene parliamo questo sicuramente e allora ci ricordiamo in qualche modo ad altri episodi di cronaca che sono accaduti purtroppo in questi giorni a bari una sorta di recludescenza di questi fenomeni criminali lui e di beh ricorderete questa rapina in stile militare avvenuta nella zona industriale di qui e lo chiedo a te visto che ti occupi spesso del tessuto imprenditoriale varese è arrivato il grido dell'allarme da parte di molte imprese della zona industriale che chiedono più vigilanza anche l'istituzione di un commissariato di polizia che funga quanto meno da deterrente episodi di questo tipo vabbè quello non serve a nulla parliamoci chiaro perché un'operazione come quella che è stata fatta l'altro giorno è un'operazione studiata a tavolino fatta da professionisti del settore da gente che l'ha fatta lì ma avrebbe potuto farla in qualunque altro punto non solo della città ma direi del territorio italiano e con questo non uso questa espressione a caso perché abbiamo i professionisti di questo settore che si spostano su tutto il territorio e anche all'estero l'italiano è all'estero quindi voglio dire non è quello il punto il punto è che sicuramente c'è bisogno di una maggiore attenzione all'area industriale cioè ne parliamo da tanto tempo continuiamo a dire che ci sono una serie di problemi nell'area industriale ma tu la sai l'ultima la vuoi sapere l'ultima allora gli imprenditori dell'area industriale devono fare anche i conti con i contini blackout elettrici cioè si interrompe all'improvviso l'erogazione di energia elettrica per pochi minuti o addirittura per qualche ora e non gliene frega niente a nessuno protestano chiamano eccetera le risposte abbiate pazienza non sappiamo cosa farci per cui oltre alla criminalità la burocrazia l'energia elettrica considera che ci sono processi lavorativi in cui la mancanza anche solo per pochi minuti di energia elettrica ti fa saltare completamente la produzione cioè sono soldi che vanno in fumo allora non chiamiamola più manco l'area industriale chiamiamola l'area volontaria non lo so non riesco a trovare una definizione peraltro basta farsi un giro tra buche strade con buche gigantesche e quanto altro diventa diventa problematico ci giro spesso purtroppo i problemi sono davvero tanti allora se vogliamo scommettere seriamente su questa città e sulle sue potenzialità partiamo dalle cose basilari partiamo anche da provvedimenti nei confronti del sud visto che molte case impenditoriali lamentano appunto l'assenza di interventi per il sud da parte del governo nazionale vabbè il grande blef il grande blef del master plan per il mezzogiorno che non si è visto e non si vedrà sicuramente perché siamo soltanto gli interventi tampone allora visto che siamo in chiusura Michele cosa leggiamo di interessante su impresa metropolitana allora annunciamo il meeting di Sorrento organizzato dall'osservatorio banche e imprese un'iniziativa molto interessante che propone di utilizzare i fondi strutturali europei per fare del mezzogiorno dei porti aeroporti stazioni del mezzogiorno una grande piattaforma logistica per i traffici merci per lo scambio merci tra il Mediterraneo e il resto dell'Europa parliamo della Fiera dell'Evante mi sono tolto qualche sassolino in maniera un po' più articolata di quello che sono riuscito a dire stasera rispetto a questa cosa e parliamo anche di questa grande invenzione che chissà che cosa potrà portare di questo ingegnere di Francavilla Fontana che ha studiato un filtro che potrebbe essere utilizzato anche economico tutto sommato potrebbe essere utilizzato all'ilva di Taranto per ridurre drasticamente le emissioni inquinanti dell'ilva un argomento quanto mai attuale infatti allora stop siamo in chiusura non mi resta che ringraziare Michele Marolla direttore di impresa metropolitana grazie Michele grazie a te grazie a te grazie che hai avuto la bontà di ascoltarmi allora ci fermiamo posa pubblicitaria e poi torniamo con altre notizie e altri collegamenti da Piazza Umberto tra Piazza Umberto Grazie a tutti. Il rilancio di Piazza Umberto e il nostro live con il Comitato Cittadino per parlare del restyling del Giardino Storico di Bari. Bari, capitale della giustizia, venerdì si apre la tre giorni del congresso nazionale dell'Associazione Magistrati con il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, il nostro focus con la Presidente dell'Aggiunta Barese Tittipo Tito. Rieccoci a quella qui in diretta, allora ripartiamo subito dal nostro live in diretta da Piazza Umberto. Roberto torno a te. Ci siamo. Sì Alessandra, prima forse avete potuto un po' vedere con le immagini del nostro Massimo Quercia un po' questa piazza, che cosa diventa quest'ora subito dopo le 8? Tu scatta un po' il coprifuoco Lorenzo, però sulla sicurezza so che qualcosa si farà ben presto, giusto? Sì, per quanto riguarda la sicurezza c'è già in atto un percorso, è più controllata, però la parola coprifuoco la contesto in questo momento perché non è così, perché io ci cammino tranquillamente, anche a quest'ora, anzi la piazza si svuota a quest'ora, tranquillamente si passeggia, questo ve lo posso garantire, ci abito qua, eccetera. Tranne poi qualche avvenimento che può disturbare, però questo può avvenire in qualsiasi parte della città. Parlando dell'idea progetto... Un po' forse è una percezione, però... Sì, può darsi, sì, è una percezione perché si vedono gli alberi, un posto diverso dalle solite strade, eccetera, eccetera, perché vedono una piazza, però ci dobbiamo abituare a questa piazza perché deve diventare veramente, come ho detto prima, il fiore all'occhiello. Allora, immaginiamo questa piazza con un giardino, che è un piccolo giardino botanico nel centro cittadino, con tutte le indicazioni delle piante, oppure vediamo tutto restaurato, con la nuova pavimentazione, chiaramente maggiore sicurezza con le telecamere, perché penso che a breve ci saranno delle nuove telecamere che saranno... Esattamente, saranno in gara già per fine anno, quindi nel 2016 avremo le telecamere anche per aiutare un po' chi ha questa percezione della piazza. Sì, però è giusto che ci sia, insomma, perché ci deve essere un senso di sicurezza e non di insicurezza, quindi bisogna controllare. Allora, non soltanto Piazza Umberto, Piazza Cesare Battista e Piazza Amore, poi c'è questa goccia del latte che siamo contenti che si sta restaurando e quindi... La goccia del latte che è la struttura storica che appunto potete vedere alle nostre spalle, ecco che il punto del nostro Massimo Quercia vi sta mostrando, dicevi sulla goccia del latte? Sì, la goccia del latte, io purtroppo devo parlare in maniera molto veloce, perché su Piazza Umberto ho tanto da dire, però devo essere molto conciso nei dettagli. Quindi questa goccia del latte che è un punto storico, ha vissuto un momento storico della città ed è importantissimo, quindi sono contento che venga restaurata e venga restituita alla città entro fine novembre. D'accordo Alessandra, qui da Piazza Umberto è tutto, io ti restituisco la linea. Ringraziamo Roberto Maggi e i suoi ospiti, noi andiamo avanti con la cronaca, i carabinieri hanno arrestato oggi sei persone, tra i clienti anche imprenditori e studenti della cosiddetta Bari Bene, stiamo parlando di un'operazione antidroga, i dettagli da Cristina Ferrini. Professionisti, studenti ma anche operai, una clientela che non conosceva età né classe sociale, quella che acquistava droga nei quartieri Madonnelle e Carrassi. Là dove l'offerta dello stupefacente era flessibile, un mercato che variava anche a seconda delle tasche dei clienti e che fruttava all'organizzazione un giro d'affare di circa 5.000 euro al giorno. 40 euro per una dose di cocaina, 10 per una di marijuana. Sono sei le persone arrestate dai carabinieri della compagnia Bari Centro al termine delle indagini. Quattro sono in carcere, due domiciliari. Si tratta di Marco Tempesta, 26 anni, sorvegliato speciale, Nicola Palermo di 21 anni, Davide De Giosa di 26, Emanuele Bevilacqua di 19 anni, Giuseppe Ottomano di 56, Domenico Ardito di 51 anni. Alcuni sono spacciatori di professione, altri insospettabili. Tra loro e gli acquirenti il rapporto si era consolidato nel tempo. Parlavano in codice, le ordinazioni avvenivano anche per telefono. Bastava dire portami le birre e apparecchia per gli amici per attivare la consegna dello stupefacente. I carabinieri hanno sequestrato oltre due chili di droga tra cocaina, ascisce e marijuana. Dramma al Policlinico di Bari. La procura ha aperto un'indagine sulla morte di una bambina venuta subito dopo il parto ieri pomeriggio nel reparto di ostetricia del Policlinico di Bari. La bimba, stando alla denuncia dei genitori, avrebbe avuto complicanze alcuni minuti dopo la nascita e i medici in sala parto non avrebbero potuto fare nulla per salvarla. Ancora ad accertare cosa abbia causato il decesso, la piccola Salma è a disposizione dell'autorità giudiziaria che valuterà nelle prossime ore se disporre l'autopsia. Nessuno dei tracciati eseguiti sulla madre 28 anni avrebbe rilevato anomalie o condizioni di sofferenza fetale fino alle difficoltà respiratorie sopraggiunte nei minuti successivi alla nascita. Dopo la denuncia i carabinieri della Compagnia San Paolo hanno acquisito la documentazione sanitaria utile a ricostruire le fasi del travaglio fino al parto naturale. Parliamo di politica regionale, di segni di legge per una nuova legge elettorale che garantisca la parità di genere per l'introduzione in Puglia del reddito di dignità. Sono i temi affrontati oggi nel corso della riunione tra il governatore pugliese Michele Migliano e le forze di maggioranza in consiglio regionale. Il reddito di dignità sarà assegnato a tutte le famiglie con i sei inferiore ai 3.000 euro in condizioni di fragilità economica e sociale, a partire dalle categorie in maggiore difficoltà, giovani e giovani coppie con figli minori, disoccupati e famiglie numerose. Il reddito di dignità pari a 600 euro, invece mensili per una famiglia di 5 componenti, prevede anche un programma di inserimento sociale e lavorativo. Consiglieri di Forza Italia l'attacco sull'esito del programma operativo nazionale Garanzia Giovani, una misura adottata dalla regione Puglia per favorire l'occupazione giovanile. Sentiamo. Incapacità di spesa delle risorse, scarsa comunicazione con i giovani e con le aziende sono i punti su cui si incardina la polemica del gruppo di Forza Italia alla regione sull'esito del progetto europeo Garanzia Giovani, finalizzato all'occupazione degli under 30. Pochi giorni fa, dall'assessorato al lavoro della regione, la notizia è che 1.800 ragazzi pugliesi, al di sotto dei 30 anni, erano stati assunti a tempo indeterminato, 4.500, quelli avviati al mondo del lavoro. Un risultato che avrebbe fatto ben sperare, replicano gli azzurri alla regione, se non fosse che i dati non erano ancora stati comparati con quelli delle altre regioni d'Italia e che oggi invece rimandano la Puglia al penultimo posto. Dei 120 milioni di euro che la nostra regione aveva a disposizione per il progetto ne sono stati spesi solo 72. Fa discutere, riferisce Forza Italia, anche il dato sulle risorse impiegate per le riduzioni fiscali alle imprese che assumono dei 28 milioni di euro previsti per la spesa, due sono stati quelli erogati. Abbiamo estrapolato dei dati dall'Istituto per lo Sviluppo della Formazione Professionale dei Lavoratori, un ente di ricerca nazionale sottoposto alla vigilanza del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e da questi dati emerge un grande blef. Un dato estremamente significativo viene dato dallo scetticismo che è stato manifestato dagli imprenditori, cioè da coloro i quali avrebbero dovuto poi in realtà prendersi in carico questi ragazzi. I giocatori biancorossi hanno incontrato i bambini del quartiere San Paolo. Riparte un giorno per la nostra città, l'iniziativa promossa dalla Lega di Serie B che vede coinvolte società calcistiche e amministrazioni comunali. Barbara Cirillo. La FC Bari 1908 scende in campo, quello della solidarietà ricomincia da oggi, un giorno per la nostra città, l'iniziativa ideata dalla Lega di Serie B in collaborazione con le società di calcio e le amministrazioni comunali. Il calcio d'inizio per i biancorossi al centro ludico per la prima infanzia piccole orme al quartiere San Paolo. Del grosso di noi a Gemiti, Salviato e Rada, accompagnati dal vicepresidente Romeo Paparesta, sono stati accolti dai sorrisi dei bimbi e da quelli ancora più soddisfatti dei loro genitori, come ha voluto sottolineare l'assessore al welfare del comune di Bari, Francesca Bottalico. Le mamme sono sicuramente molto felici, anche perché i piccolini sono anch'essi felici, perché le mamme sono occupate e i bambini possono giocare liberamente, perciò c'è una felicità diffusa. Ci sono molti papà che hanno preso le ferie per essere qui presenti, sentivo prima e c'era qualche battuta di un papà che diceva a una mamma vabbè oggi non mangiamo, facciamo festa, restiamo qui con i calciatori. Una realtà quella di piccole orme che è cresciuta nel corso degli anni, grazie agli sforzi di chi quotidianamente lavora per regalare un sorriso ai più piccoli, ma soprattutto grazie alla costanza di Don Bonerba e a loro che Romeo Paparesta ha voluto fare i suoi complimenti. Devo fare i complimenti perché non solo a Don Bonerba che è stato l'ideatore e mi diceva prima che sono 24 anni che lavora su questo progetto, ma soprattutto i complimenti vanno alle operatrici, agli operatori, che lavorano con uno scopo soltanto, quello di portare un po' più di tranquillità, di serenità a delle situazioni che probabilmente possono goderne tantissimo per vedere la vita con uno spirito diverso. Bene, era il nostro ultimo servizio di questo terzo spazio, ci fermiamo per una breve pausa pubblicitaria, ma restate con noi perché tra pochissimo insieme alla Presidente dell'Associazione Nazionale Magistrati di Bari Titti Potito parleremo del congresso della tre giorni che si terrà a Bari da venerdì a domenica. Tra poco. Previsioni per oggi. In serata, al nord, parzialmente nuvoloso, con schiarite prevalenti. Al centro, nubi e schiarite con possibili piovaschi. Al sud, molte nubi con deboli piogge intermittenti. Previsioni per domani. Al mattino, al nord, cielo nuvoloso con solo qualche breve schiarita. Al centro, schiarite prevalenti, seppur alternate a nubi sparse. Al sud, nubi e schiarite nel comirizzo. Al nord, schiarite prevalenti, seppur alternate a nubi sparse. Al centro, schiarite con transito di velature sparse. Al sud, cielo nuboloso con solo qualche breve schiarita. Eccoci ancora qui in diretta. Abbiamo titolato questo spazio Bari Capitale della Giustizia perché in effetti è così. Da venerdì si apre a tre giorni dedicata al congresso nazionale dei magistrati con il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. Oggi ne parliamo con la Presidente dell'ANM di Bari, Titi Potito. Presidente, buonasera. Buonasera. Allora, intanto partiamo subito. Perché la scelta di Bari? È una casualità oppure è stata voluta la scelta di Bari? Perché no, mi verrebbe da dire. Intanto, così genericamente, la Puglia e Bari, una bellissima città, perché non promuoverla anche da questo punto di vista. Però, scherzi a parte, mi verrebbe ancora da dire che, insomma, la giunta a Enembe di Bari è stata molto attiva, quindi, come dire, abbiamo lavorato molto anche sul territorio. Ma forse non è nemmeno questo, appunto, mi potrei autoincensare, probabilmente, o incensare appunto i miei colleghi. Però, probabilmente, penso che la Puglia adesso sia un territorio proprio di sperimentazione dei temi che verranno trattati nel congresso. Cioè, il rapporto tra giustizia ed economia, penso all'ILVA, appunto, è un esempio e quindi, probabilmente, è un terreno, un laboratorio, diciamo, la Puglia di questi temi, del rapporto, appunto, tra questi diritti e perciò, probabilmente, la scelta è ricaduta su Bari anche per questa ragione. Allora, lei ha in qualche modo anticipato il titolo di questo congresso che è giustizia, economia, tutela dei diritti, il ruolo del giudice nella società che cambia. Qual è il nuovo ruolo, se lo dovessi chiedere così, l'impatto? Qual è il nuovo ruolo del giudice in base alla società e al momento storico che viviamo? Non lo so, io, ecco, ho studiato molto la Costituzione italiana, l'evoluzione della Costituzione italiana prima di diventare magistrato e ho pensato che ogni età ha i suoi diritti, ogni stagione ha i suoi diritti. Allora, si è passati da una prima fase in cui si è cercato di tutelare, dopo il fascismo, dopo la Seconda Guerra Mondiale, si è cercato di tutelare le libertà fondamentali, poi si è passati ai diritti sociali, oggi invece si toccano i temi etici fondamentalmente e si cade inevitabilmente in quello che è il bilanciamento degli interessi che spesso i giudici, i giudici ordinari, ma anche i giudici costituzionali sono chiamati a risolvere. Il tema è fondamentale perché c'è quest'idea che il giudice spesso con i suoi provvedimenti vada ad incidere su altri diritti che sono i diritti di impresa. Ebbene, però, occorre anche tutelare il diritto alla salute. Non possiamo vedere quello dei giudici che è un lavoro di protezione dei diritti, di tutela dei diritti. Noi a quello siamo chiamati come un'indebita intromissione in altre libertà, appunto, qual è la libertà di impresa. Perciò il tema è molto caldo, ripeto, in Puglia soprattutto è molto caldo. Mi preme sottolineare che è un tema estremamente moderno il ruolo del giudice nella società che cambia, ma mi viene da dire che il ruolo del giudice è sempre quello di applicare la legge e con essa di tutelare i diritti. Il giudice non si deve preoccupare di quello che succede dopo il suo provvedimento. I suoi provvedimenti inevitabilmente diciamo hanno delle ripercussioni, ma è fondamentale che il giudice svolga il suo lavoro nella interpretazione della legge, nella società che cambia, sicuramente, ma la deve interpretare in modo sempre da tutelare i diritti delle persone. Non deve sostanzialmente preoccuparsi dell'impatto economico che avrà la decisione? E fondamentalmente diciamo non è chiamato a quello, non è chiamato a preoccuparsi per quello che viene dopo, per quello che succede sostanzialmente dopo. È chiamato a preoccuparsi appunto di una corretta interpretazione della legge nella società che cambia, perché la legge appunto viene interpretata anche a seconda di come cambia la società, sicuramente, è un'interpretazione come dire evolutiva, si chiama così, però deve rimanere ancorato soltanto a quei principi. In questo momento Presidente ritiene che sia stata un po' minata l'indipendenza e l'imparzialità quindi di giudizio della magistratura? Una sorta di delegittimazione ne abbiamo parlato. Vabbè, questo sì, sicuramente, la delegittimazione sicuramente c'è stata, ma come dire, la magistratura ha in sé degli anticorpi fortissimi, il sistema ha in sé degli anticorpi fortissimi, non ce lo dimentichiamo mai. Il nostro è un sistema democratico che appunto può rispondere e risponde sempre bene alle sollecitazioni negative che provengono dall'esterno. Voglio anche dire che comunque il Congresso ha anche altri temi, il tema centrale è questo, però ci saranno anche altre sessioni dedicate anche al problema dei carichi di lavoro, che è un problema che comunque è l'altra faccia della medaglia di giustizia ed economia e tutela dei diritti. L'abbiamo già detto tante volte anche in questa tradizione. I carichi di lavoro sostanzialmente sono quanti con il peso della scrivania del giudice. Quante colonne, no? Adesso però è un po' etereo nel senso che esiste il processo civile telematico, perciò è tutto inserito. Non dà la percezione del peso. purtroppo i fascicoli diciamo cartacei e quel peso esiste sempre. Se non è cartaceo è virtuale. Comunque come dire le lungaggini processuali poi alla fine non tutelano effettivamente i diritti ma le lungaggini processuali non sono dettate da disfunzioni del servizio. Le disfunzioni dipendono solo ed esclusivamente dal fatto che qui soprattutto in questa regione soprattutto a Bari e Foggia i carichi di lavoro sono sopra ogni immaginazione sopra ogni limite di sopportazione. Il congresso potrà essere potrà fare da cassa di risonanza le richieste che spesso sono arrivate proprio dalla giunta barese dell'Associazione Nazionale Magistrati e mi riferisco alle carenze ataviche di organico che poi determinano anche le lungaggini processuali dovute a troppi carichi pendenti che pesano su ciascun magistrato. Ce lo auguriamo ce lo auguriamo perché troppi giudizi pendenti carichi pendenti sono ma comunque siamo lì noi ce lo auguriamo perché lo ripeto ancora una volta insomma il rapporto tra giudici e abitanti in questa città in questo distretto è di uno ogni quasi 13.000 abitanti un giudice ogni quasi 13.000 abitanti Bari è un tribunale medio grande gli altri tribunali molto grandi scusate e gli altri tribunali molto grandi sono Torino Napoli Milano che hanno numeri inferiori di oltre la metà cioè a Napoli c'è un giudice ogni 5.000 abitanti e le esigenze diciamo della criminalità napoletana vanno di pari passo con le esigenze che noi abbiamo qua sia di criminalità sia appunto di sviluppo economico questa è una regione comunque dove appunto l'economia decolla dove l'economia come dire funziona abbiamo tanto turismo insomma come dire abbiamo tanti diritti e tante esigenze da tutelare e tante richieste di giustizia diritti quasi insaziabili si potrebbe dire nella prima giornata che sarà quella del 23 alla presenza anche del presidente della Repubblica lei farà la sua relazione in qualità di presidente della NM Bari ci può anticipare quali saranno i punti chiave della sua relazione? beh i punti chiave sono proprio questi appunto il giudice riesce oggi agli strumenti sufficienti per soddisfare i diritti che appunto sembrano essere insaziabili non perché chiedono sempre maggiore giustizia perché non riescono ad essere soddisfatti dalla giustizia che dal sistema che appunto abbiamo adesso e quindi sì in buona sostanza appunto la necessità di non interferire nel lavoro di interpretazione del giudice con altri tipi appunto di stanze ci saranno anche molte personalità esponenti del governo nazionale sarà anche l'occasione per chiedere la stagione delle riforme quando arriverà la stagione delle riforme che non deve essere la stagione delle riforme come si dice in gergo a costo zero non si deve pensare che i singoli interventi sulla prescrizione sulle intercettazioni sulle ferie eccetera eccetera possano come dire migliorare il servizio giustizia il servizio giustizia si migliora se si danno più risorse se si assumono più cancellieri perché non dimentichiamoci che è vero che abbiamo il processo civile telematico ma il processo civile telematico non deve servire a supplire la carenza di cancellieri che comunque sono una figura fondamentale nel nostro sistema e i concorsi non vengono banditi dal secolo o millennio scorso praticamente quindi e questa è una cosa molto grave servono più magistrati soprattutto appunto in certi tribunali servono proprio più risorse risorse di edilizia risorse proprio di come dire di funzionamento effettivo dalla carta ai toner e come dire è un po' avvilente tornare a ripetere sempre le stesse cose non lo so insomma io sono entrata in magistratura 17 anni fa ma sentivo dire queste cose dai miei predecessori già appena entrata in magistratura adesso dopo 17 anni mi trovo a ripeterle io è un po' avvilente no decisamente abbiamo detto sono tre giornate si parte dal venerdì fino alla domenica e poi il venerdì sera ci sarà anche un concerto c'è questo concerto dell'orchestra sinfonica del Petruzzelli ovviamente organizzato dalla società nazionale magistrati proprio per questo congresso un concerto che noi seguiremo nel nostro live in diretta seguiremo insomma tutte le fasi di questo congresso Mendelssohn e Tchaikovsky ah perfetto si parlerà anche ovviamente della durata della giornata del processo mi collego anche alla prima quello che dicevamo prima stiamo parlando di una Puglia che cerca o comunque tenta di agganciare la ripresa tenta di essere più competitiva i tempi del processo però incidono e non poco sulla competitività del tessuto imprenditoriale di tutti i dori ma questo è un dato di fatto purtroppo diciamo io non voglio parlare di me però voglio dire i numeri di sentenze io sono giudice civile i numeri di sentenze che come dire sforniamo continuamente e sono davvero molto elevati sono numeri davvero interessanti ma nello stesso tempo i processi da noi durano moltissimo perché purtroppo sono tanti e noi siamo troppo pochi quindi come dire il tuo ruolo tu corri corri ti affanni ma il tuo ruolo ti corre dietro non riuscirai mai ad organizzare effettivamente il lavoro in modo da soddisfare tutte le esigenze che ti piovono continuamente e quotidianamente si rischiano in questo modo estremizzo un concetto però si rischiano di creare tensioni sociali no? queste esasperazioni ma sicuramente però purtroppo torno a ripetere se non si capisce che se non si realizza effettivamente una riorganizzazione della giustizia effettiva purtroppo i problemi saranno sempre quelli insomma ma ripaga lo sconto della sua posizione geografica? non direi non direi credo sia una città nel bel mezzo di una del mar Mediterraneo si affaccia su paesi in via di sviluppo no non direi ben collegata con il resto d'Italia tutto sommato insomma abbiamo un aeroporto che funziona molto bene quindi no non credo non direi riferisco all'organico perché abbiamo fatto riferimento con altre città questo sì non lo so francamente non lo so questa è una domanda a cui non posso rispondere perché davvero non so però probabilmente diciamo abbiamo chiesto da parecchio tempo di rivedere le piante organiche e di distribuire praticamente ecco le piante organiche in maniera più equa e razionale su tutto il territorio nazionale sarà una delle tante richieste diciamo che è stata una delle tante richieste già fatte ma sarà una delle tante richieste che continueremo a fare sperando di ottenere risposta positiva almeno da questi tre giorni allora non mi resta che ringraziare Titi Potito presidente dell'ANM di Bari grazie a voi e buon lavoro per questi tre giorni che noi ovviamente seguiremo come Telebari non mi resta invece che ringraziare voi per averci seguito augurarvi un buon proseguimento di serata arrivederci